Benvenuti alla nuova edizione dei 100 secondi, notizie flash per le chiese. Passiamo subito alla prima notizia. Nei primi giorni del prossimo anno, dal 10 al 20 gennaio, potrai anche tu partecipare ai 10 giorni di preghiera. Saranno 10 giorni vissuti da tutto il mondo con un'esperienza di preghiera con il nostro sommo sacerdote. Vai su wicca.it slash 10 giorni di preghiera per scaricare le letture e vivere questi bei momenti di preghiera. La nostra chiesa da sempre ritiene che il gioco d'azzardo sia contrario ai principi cristiani, dato che nel tempo priva la persona sia della dignità sia del necessario per sé e per la propria famiglia. Per questo promuove la campagna non ti azzardare, a sostegno delle vittime di questa piega sociale. Schierati insieme alla tua chiesa regalando uno dei doni solidali non ti azzardare. Per maggiori informazioni visita il sito nontiazzardare.8permillaventisti.it oppure rivolgiti al referente incaricato dalla tua chiesa. Grazie per averci seguito e arrivederci al prossimo appuntamento. Vi ricordiamo di seguire i nostri siti di informazione news.avventisti.it, ilmessaggeroavventista.it e wicca.it. Buon sabato!